No alla pubblicità di giochi con vincita in denaro in tv e radio dalle 7 di mattina alle 10 di sera e quanto annuncia un emendamento del Governo alla legge di stabilità che prevede multe da 100.000 a mezzo milione di euro per chi non rispetterà lo stop. Stop che però non riguarda mezzi di comunicazione specializzati, lotterie nazionali ad estrazione differita e forme di comunicazione indiretta derivanti dalle sponsorizzazioni nei settori della cultura, dell'istruzione, della ricerca, dello sport, della sanità e dell'assistenza. Vietata comunque la pubblicità che si rivolga o faccia riferimento a minori e che li rappresenti mentre giocano. Nell'emendamento sono previste anche ulteriori misure per contrastare il gioco illegale. Si prevede poi l'aumento del prelievo erariale su apparecchi che erogano vincite in denaro. Inoltre dal 2016 il nulla osta per le slot verrà rilasciato solo in sostituzione di quelle già esistenti escludendo di fatto l'installazione di nuovi apparecchi. Per l'associazione Avviso Pubblico in Italia sono 360.000 le videolotteri e le slot machine attive ben più numerose dei posti letto nella sanità pubblica, sottolinea l'associazione che chiede un riordino del settore che tuteli i soggetti più deboli dal gioco d'azzardo e dalla ludopatia.